Ci troviamo nella zona industriale di San Cataldo, nell'azienda di Marmi di Vincenzo Anzalone che è anche vicepresidente degli industriali. Innanzitutto parliamo della sua azienda, oggi risente della crisi. Allora diciamo che la crisi non è che la stiamo sentendo ora, è già da 5-6 anni che siamo in crisi, in crisi profonda, perché come sappiamo tutti da quando hanno, diciamo, questo governo nuovo, hanno messo queste tasse sull'Imo, sulla prima casa, molti diciamo che la seconda casa non la comprano più perché pagando tutte queste tasse non riescono più a comprare le case e le case rimangono vuote. Praticamente non lavorando l'edilizia il settore del marmo ne risente tantissimo e noi siamo in crisi da 5 anni. Poi non è solo questo, sono anche le tasse, il caro tasse. Noi diciamo che abbiamo lo Stato che è il nostro, diciamo, come nostro, come si dice, il nostro partner, il nostro partner perché lui si prende le tasse, si prende il nostro guadagno sino ad agosto, sino ad agosto noi lavoriamo per lui. Dopo ad agosto se ne rimangono qualche cosetta rimane per noi, ma diciamo che con questa crisi non rimane quasi niente per nessuno. Una crisi che tra l'altro, essendo lei vicepresidente degli industriali, come abbiamo detto, coinvolge un po' tutti i settori. Lei sa la situazione? Sì, diciamo che tutti i settori sono coinvolti. Tutte le imprese della zona industriale stanno subendo, e sappiamo tutti come alla zona industriale ci sono molte aziende che stanno chiudendo. Tutti questi problemi che abbiamo, pagare Imo, Tasi... Quindi le tasse vi stanno schiacciando? Diciamo che le tasse sono molto gravose per le imprese. Io direi, proporrei a questi nostri politici che tutto quello che loro fanno ancora non l'hanno capito. Aumentare l'IVA, aumentare le tasse non vuol dire economia, vuol dire strozzare l'economia. L'economia con le tasse che sono così alte non vanno altro che ridurre tutto. L'aumento dell'IVA, quando aumenta l'olio l'IVA, non vanno altro che ridurre l'indroito dello Stato, perché aumentando l'IVA si riduce l'indroito dello Stato, perché molta gente non fattura più, molta gente non compra più niente, perché l'IVA è molto alta. Come le tasse? Se le tasse sono a 40, 50, 60%, come si fa ad andare avanti? Un'impresa come fa ad andare avanti? Io avevo un'impresa qua, un'azienda, che prima c'erano sei operai, ora siamo rimasti in bocchi, siamo rimasti io con un operaio. Come si fa? Avevo un'impresa familiare con mia moglie, mia moglie non viene più a lavorare, perché il lavoro diciamo che non c'è più. Tra l'altro, parlando della disoccupazione giovanile, oggi vi viene difficile assumere, a parte la crisi, ma anche perché costa tanto mantenere un operaio. Certo, come sappiamo, tenere un operaio in regola in questi tempi costa tantissimo. Un operaio messo in regola per bene costa quasi 3.000 euro. Come si fa a pagare un operaio con 3.000 euro pagando tutte queste tasse? Allora il governo si deve mettere in destra. E tutte queste tasse non si possono più pagare, perché noi poi non siamo più concorrenziari con gli altri. Io, specialmente io che ho lavorato anche all'estero, non riesco più a essere competitivo all'estero. Già che siamo in una terra isolata, dove per noi i materiali arrivano tutti dal nord e abbiamo tutti questi trasporti da subire, poi noi lo dobbiamo rimandare lì sopra. Con questo tipo di operai che dobbiamo assumere e che ci costano tantissimo, come facciamo ad andare avanti? Prima parlava dei patti territoriali, diceva sono stati un blef, ci hanno rovinato. Allora, se vogliamo parlare di quello, io ho fatto la 488 nel 2002. Diciamo che è stato un blef, perché? Perché era tutto, secondo me, tutto organizzato. Ci hanno fatto in modo che si arricchiscano le imprese nel nord per impoverirci noi del sud. Io ho speso un milione di euro nel 2002 e come si vede qua la mia azienda è piena di macchinari, tutto controllo numerico. Diciamo che fino al 2007-2008 noi lavoravamo tranquillamente, perché non c'era la crisi. Poi è subentrata la crisi e noi siamo rimasti tagliati fuori. Poi diciamo che la 488 non l'hanno più completata. Io ancora devo ricevere il 10% della 488. E non si dice niente, non se ne parla, non si sa niente. Anche il Pirrimarmi l'ho fatto nel 2008. Eppure ho avuto gli strasci che pure per rimarmi.